Tifosi bianco celesti, bentornati con Lentella Time che torna per presentare il prossimo fine settimana calcistico che vedrà naturalmente tante squadre scendere in campo. Partiamo dalla prima squadra, riduce dall'1-1 in casa con Lavi Spesaro. Lentella vuole provare a fare una grande partita in trasferta contro il Pontedera. Si gioca domenica alle 17.30 allo stadio Ettore Mannucci, biglietti per il settore ospiti in vendita sino a domani alle ore 19 sul circuito Etes. 12 euro il costo di biglietto per seguire la squadra in trasferta, organizzato un pullman anche il club amici della vetria già esaurito per la Toscana. Una partita questa naturalmente molto importante, evoca anche dei ricordi positivi per Lentella che vinse 1-0 lo scorso anno grazie al rigore realizzato da Zamparo. La squadra si allenerà naturalmente anche nella giornata di domani, poi ci saranno le parole di Mister Gallo alla vigilia del match domenica. Fisco d'inizio alle ore 17.30 con Radio Cronaca per chi non potesse seguire la squadra di trasferta integrale sui nostri canali. È online sul nostro canale YouTube, è anche una nuova puntata del format Ti Confesso Che, dove Don Andrea Buffoli intervista i nostri calciatori. La seconda puntata vede come protagonista Andrea Corbari che è stato incalzato da Don Andrea non soltanto su tematiche calcistiche ma come sempre anche di carattere di intrattenimento goliardico e anche culturale. Quindi andatela a sentire, è una puntata sul nostro canale YouTube. Apriamo adesso la pagina dedicata al settore giovanile, naturalmente tante sfide per le nostre squadre. La primavera ha totalizzato 13 punti nelle prime 5 partite, domani è attesa da un esame importante, giocherà a Ferrari in trasferta con la Spal, si gioca alle ore 11, gara naturalmente molto impegnativa per i ragazzi di Melucci. Doppia sfida con la pergolettese per Under 17 e Under 15, ci sarà invece il Novara sulla strada dei 16 di Mister. Cisco guida l'entella time per entrare in una settimana molto calda, importante e impegnativa che avrà prima il turno infrasettimanale e poi il derby del Tiguglio torna appunto la settimana prossima.